È stata una bellissima emozione, finalmente è arrivato questo gol che aspettavo, è arrivato nel 2023, speravo prima, però è pur sempre un inizio e sono felici. Credo che sia la stessa reggiana, sempre con l'atteggiamento giusto, fame di vittoria, oggi siamo entrati con la voglia di vincere la partita e credo che si sia visto. Abbiamo comunque dato poche opportunità al Siena di pensierirci, abbiamo coperto bene tutte le zone del campo, abbiamo corso tanto, hanno dato una grossa mano anche agli attaccanti che erano ben posizionati e quindi è stato un po' più semplice. Il mio obiettivo è rimanere, nel senso che io qua sto benissimo, mi trovo bene, abbiamo un obiettivo comune importante, però ovviamente nel calcio non si sa mai e quindi si vedrà. Sicuramente questa partita ci dà la carica per affrontare la prossima, ovviamente fuori casa sappiamo che si trovano degli insidie maggiori e dovremmo stare attenti perché troveremo una squadra guerrita e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Credo che guardare la classifica sia la cosa principale e la guardiamo tutti ovviamente, però non ci influenza poi così tanto perché è davvero troppo presto.